La geotermia effettivamente talvolta può dare qualche preoccupazione ambientale, essenzialmente per due fattori. Il primo, la geotermia idrotermale, che è quella utilizzata normalmente, deve utilizzare grandi quantità di acqua per rimpiazzare il vapore che viene estratto dai pozzi. Ci sono oggi tecnologie aggiornate come la reiniezione che riduce questa quantità di acqua, però il problema non lo risolve completamente, lo risolve solo in parte. Il secondo fatto è più tecnico, quando il vapore esce dalle profondità del suolo, come dico io, lava le rocce. Le rocce del suolo, che sono lì da milioni di anni e quindi hanno raccolto milioni di tonnellate di residui, alcuni di questi residui non sono per noi accettabili. Quindi quando il vapore esce in superficie si trascina con sé un'infinità di componenti anche non accettabili. Inoltre l'acqua profonda in profondità, tenuta ad alta temperatura, contiene dei gas che uscendo in superficie si rilasciano nell'atmosfera. Tutta questa serie di fattori talvolta dà degli effetti che alle popolazioni locali non sono molto graditi. Quindi oggi la geotermina idrotermale è guardata con una certa attenzione dalle popolazioni e quindi le aziende che si occupano di questo fanno di tutto per tentare di superarlo. Però dal nostro punto di vista come Politecnico di Milano noi vediamo che potrebbe essere ottimale un approccio completamente diverso. Quindi eliminare completamente qualunque contatto dei fluidi che sono in profondità con il sistema che poi andrà all'esterno. Che cosa intendo dire? Il concetto è molto semplice, se io metto un radiatore, un tubo in profondità, dentro questo tubo ermetico faccio girare un fluido che poi mi serve per esempio per alimentare le mie turbine e questo tubo è ermetico, il fluido che circola nel tubo non andrà mai in contatto con la roccia calda. Quindi io dalla roccia estraggo solamente il calore. Questo potrebbe assolutamente garantirmi il totale rispetto ambientale senza problemi. Qual è il punto Dolenz di questa mia teoria? Che i costi sarebbero maggiori, le perforazioni necessarie sarebbero lunghe però le tecnologie oggi ci sarebbero per farle e le potenze sarebbero ridotte. Allora il quesito che io mi pongo è quanto vale il fattore dell'impatto ambientale su altri fattori. Se l'impatto ambientale vale zero, evidentemente il nostro modello non ha peso. Se l'impatto ambientale fosse un elemento di priorità uno, allora uno potrebbe dire che conviene produrre un'energia a maggiore costo mantenendo un impatto ambientale zero. Questo è un po' il punto. Quello che io vorrei anche dire per chiudere è che oggi la geotermia si basa sui giacimenti idrotermali che purtroppo sono pochi, rari e presenti solo in alcuni paesi. In realtà se io potessi raggiungere profondità elevate anche in assenza di acqua, in assenza di acquifero, e sfruttassi il mio concetto del closet loop, quindi del tubo, un tubo che estrae calore dal sottosuolo non ha bisogno di acquifero, non ha bisogno di acqua. Quindi questo amplierebbe enormemente le fonti energetiche potenziali presenti in tutto il mondo, in ogni punto. L'unica variabile sarebbe la profondità, ma questa potrebbe essere superata da tecnologie a costi decrescenti che possono permettere lo sfruttamento. In un'ottica del genere, io forse un po' ottimisticamente, ma è da molti anni che ci crediamo, riteniamo la geotermia una fonte oggi un po' trascurata, per tutta una serie di considerazioni, potrebbe invece diventare una forte primaria con enormi quantità di energia tratta nel completo rispetto ambientale. Quando noi parliamo di impatto ambientale, la maggioranza dei riferimenti sono presi dall'inquinamento. Ma a nostro avviso c'è un altro impatto ambientale che è molto presente, che è l'impatto estetico. Facciamo un esempio. Se io devo fare una centrale di fotovoltaico, io devo prendere un campo, magari in una zona di particolare interesse, oppure eliminare dei campi di grano, e devo mettere dei pannelli. Quindi io utilizzo delle superfici per fini, per produzione di elettricità. La stessa cosa delle pale eoliche, che se io non le vado a porre in una zona accettabile esteticamente, mi può dare un danno ambientale. Questo credo che ormai è un punto assodato. Il punto della geotermia, che come avevo accennato, il vantaggio della geotermia rispetto al fotovoltaico e all'eolico, che ha una continuità giorno e notte, e quindi la produzione di energia rapportato all'eolico e al fotovoltaico può essere fatta di 1 a 5. Quindi un impianto geotermico di pari potenza produce 5 volte la potenza di un impianto fotovoltaico o eolico, perché è continuo, mentre invece l'eolico è pulsante e il fotovoltaico di notte non funziona, eccetera. Quindi se io considero l'impatto ambientale estetico dell'installazione di un impianto geotermico, poiché nella nostra ottica è solamente fatto da tubi inseriti, una volta che ho finito la perforazione e ho inserito i tubi, la superficie, io ho bisogno di una centrale che può essere un container, quindi a differenza di un impianto fotovoltaico che ha bisogno di immensi superfici o di un eolico che ha bisogno delle enormi pale che continuano a ruotare, un geotermico, quando è finita l'installazione, mi rimane qualcosa di meno di una casetta di un contadino lunga 5 metri, altra 2, perché le turbine che possono essere posizionate sono di limitate dimensioni, quindi l'impatto ambientale estetico sarebbe minimo. Faccio un altro riferimento, quando io parlo di impianti geotermici idrotermali, purtroppo gli impianti geotermici idrotermali hanno bisogno di lunghe canalizzazioni per convogliare i vapori alle centrali e quindi si possono avere, sempre a livello di impatto estetico, delle lunghe tubificazioni che corrono lungo i campi che per esempio potrebbero non essere presenti nel nostro progetto.